Ragazzi oggi parliamo di una novità di Facebook per Android che sono convinto che in molti pensavano fosse già attivo da tempo ma che in realtà quelli del social network hanno iniziato a distribuire proprio poche ore fa e che riguarda il caricamento dei video nel social network in questo video vi farò vedere come caricare i video e anche le foto in HD tramite l'applicazione di Facebook per Android è una novità che in effetti quello di Facebook hanno rilasciato da pochissimo il cui roll out come al solito è un pochino lento quindi se non avete ancora questa funzionalità dovete solo aspettare o aggiornare l'applicazione io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di TechFanpage Attivare il caricamento di foto e video in HD con l'applicazione di Facebook per Android è semplicissimo tutto quello che dovrete fare sarà andare nel menu principale dell'applicazione per dispositivi mobili di Google scorrere in basso fino a scegliere la voce impostazioni dell'applicazione vedrete che si aprirà un nuovo menu nel quale è possibile scegliere diverse impostazioni tra le quali troverete proprio la voce carica foto in HD e carica video in HD ovviamente per attivare queste funzioni non dovrete fare altro che posizionare su One le spunte per ogni relativa voce a questo punto attivando entrambe le funzioni vedrete che quando caricherete una foto o un video nel social network la qualità del file messo su Facebook sarà sensibilmente maggiore rispetto a quelle che ottenevate senza attivare queste funzionalità io sono Dario Caliendo e ho l'appuntamento al prossimo video di TechFanpage Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti